Musica Una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale dedicato alla salute. Ospiti dei nostri studi Enzo Apolloni, direttore sanitario dell'Ulstre, buongiorno e benvenuto. E Fabrizio Fontana, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Ulstre, buongiorno e benvenuto. Parlare di Dipartimento Prevenzione, sappiamo che ha una gamma vastissima di interventi e attività. Dottor Apolloni, quando si parla proprio di Dipartimento Prevenzione, cosa si intende? Ecco, le funzioni di prevenzione sono state attribuite dalla legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale alle aziende sanitarie locali, adesso sono le unità locali e i soggetti sanitarie, ancora nel lontano 78. Verso la fine degli anni 90 e nel 99, con una legge, sono state proprio attribuite quelle che sono l'organizzazione, la funzione e i Dipartimenti di Prevenzione. In realtà il Dipartimento Prevenzione è una struttura che contiene all'interno altre strutture, è molto complesso come sistema e si occupa proprio direttamente di alcune funzioni, che sono ad esempio la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la tutela della collettività contro i rischi ambientali da inquinanti ambientali, la tutela della collettività dei singoli contro i rischi degli infortuni negli ambienti di lavoro, tutta la sanità pubblica veterinaria, quindi il mondo della sanità pubblica veterinaria, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti e assieme ad altre strutture dell'azienda si occupa di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative. In realtà il Dipartimento attua poi sul territorio quello che è il programma che è stabilito dal Piano Sociosanitario Regionale del 2012 e che si concretizza in trienni di Piano Regionale della Prevenzione. Quindi di fatto, e dopo magari il Dottor Fontana sarà più esplicito sui singoli temi, il Dipartimento di Prevenzione cerca di promuovere tutta una serie di azioni che rimuovono le cause di malattia da agenti che sono nell'ambiente o che riguardano i singoli individui. Dunque, Dottor Fontana, proprio prevenzione nell'ottica di tutela e prevenzione della salute, insomma far star bene la persona a 360 gradi. Quando si parla di prevenzione, visti anche i recenti episodi di cronaca, viene subito da pensare ad esempio alla sicurezza stradale. Beh, sicuramente per preservare la salute ci sono azioni rivolte in diverse direzioni. Quello della sicurezza stradale è sicuramente un tema importantissimo. Ricordiamo che il numero maggiore di morti in età di giovani adulti è legato proprio a questa causa. E se pensiamo che l'evoluzione dei mezzi tecnici sicuramente è stata molto importante in questi ultimi anni, dobbiamo ricordare che spesso sono legati gli incidenti al fatto che ci siano dei comportamenti sbagliati, comportamenti spesso legati al consumo di sostanze, in primis l'alcol ma non solo, che inducono poi le persone a guidare in maniera non adeguata e quindi a generare un numero di morti ai quali siamo quasi abituati, lo dico con grande dispiacere, siamo quasi abituati a sentire giorno per giorno riferire, la moto che cade, l'incrocio eccetera, ed è una cosa veramente straziante poi quando incontriamo i genitori e pensare soprattutto che questo era prevenibile, perché il problema è per noi come prevenzione usare azioni che siano in grado di evitare degli eventi avversi, questa è la nostra missione in generale, quindi anche nel campo dell'educazione stradale sicuramente in collaborazione naturalmente con i corpi dei vigili urbani e con tutte le autorità, le scuole eccetera, noi siamo a disposizione, siamo impegnati in questa battaglia. Quindi fate proprio un'attività mirata che coinvolga soprattutto scuole e giovani. Questo è il target per uno dei problemi sicuramente di salute più importanti. Si parla di magari abusi di sostanze stupefacenti o alcol, ma a volte, ahimè, anche il telefonino, quando si parlava di comportamenti dopo fa. Lei ha sicuramente messo il dito nella piaga, perché tutte quelle azioni che portano alla diminuzione dell'attenzione sono potenzialmente delle cause di disastri. Sappiamo che il telefonino, purtroppo lo vediamo continuamente, non è mai abbastanza sanzionato anche questo discorso, perché addirittura si vede persone che scrivono messaggini eccetera alla guida ed è una cosa veramente assurda che genera un impatto negativissimo sulla salute. E come, oltre a questi interventi che ci sono proprio a livello delle scuole, come si può far capire alla gente che si può prevenire il peggio? È una questione di cultura. L'azione principale che deve essere svolta è che non ha degli effetti immediati, ma sono gli effetti che si producono solo nel medio periodo, sono quelli di sviluppare la coscienza nelle persone che sono loro stessi artefici della propria fortuna e quella dei propri simili. Il Dipartimento si occupa di un altro tema di cui si discute molto, ovvero la sicurezza sul lavoro. Sì, la sicurezza sul lavoro, anche qui sono stati fatti dei passi enormi. È cambiato l'atteggiamento dei servizi anche a seguito degli adeguamenti alle disposizioni normative europee nella responsabilizzazione maggiore che c'è sempre di più per i lavoratori. Immaginiamo, adesso è noioso citare le leggi, ma l'ultimo decreto in questo campo è il decreto 81 che prevede che ci siano responsabilità collegate al datore di lavoro, ai dirigenti che lavorano all'interno, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori stessi. Perché è inimmaginabile che ci sia un'azione di repressione e controllo e che con questo si aggiunga risultato. Anche qui la responsabilizzazione diffusa e questo ha portato a miglioramenti molto significativi nel campo dell'infortunistica del lavoro. Questo non significa naturalmente che non si facciano i controlli. Il nostro Dipartimento attraverso l'articolazione che si chiama SPISAL, che è il servizio per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, lavora in maniera sistematica su indicazioni che ci vengono date dalla Regione. In alcuni comparti, per esempio nell'ambito dell'edilizia, che è uno dei comparti più colpiti dagli infortuni sul lavoro, noi abbiamo degli obiettivi che la Regione ci dà, che sono di raggiungimento di un certo numero in percentuale sui cantieri e ogni anno noi andiamo a vedere questi cantieri per vedere se sono rispettate le norme. Ovviamente a noi, come Servizio Sanitario Nazionale, come Dipartimento di Prevenzione in particolare, interessano gli effetti che la violazione della norma produce sulla salute. Potremmo fare degli esempi, non so, il discorso dell'amianto per esempio, le lavorazioni che comportano l'inalazione di fibre d'amianto, sono disciplinate dalla norma, chiaramente, ma non interessa perché? Perché se il lavoratore inala le fibre d'amianto, ha la probabilità aumentata in maniera considerevole di avere una patologia neoplastica specifica collegata a questo, a livello pleurico. Quindi, chiaramente, potremmo continuare negli esempi, ma la nostra azione, che è talvolta repressiva in questo campo, è motivata da ragioni che sono meramente di salute, per preservare la salute. Certo, lei parlava prima appunto dei datori di lavoro, di chi ha in mano un'azienda, però vorrei puntare proprio l'attenzione anche sui lavoratori stessi, perché parlando magari con alcune persone che hanno aziende o anche con responsabili degli stessi comuni che hanno a che fare con dipendenti e roba del genere, loro possono avere in mano e chiedere di rispettare tutte le norme di sicurezza, ma molto spesso sono gli stessi lavoratori che non hanno nessuna intenzione di mettersi le scarpe apposta o rispettare queste norme di sicurezza, per una questione di comodo che poi alla fine può risultare invece letale in certi casi. Sì, se noi vogliamo andare nello specifico, la norma obbliga ogni datore di lavoro a fornirsi di un documento di valutazione del rischio, si chiama. Cioè per ogni tipo di lavorazione, per ogni ambiente lavorativo, il datore di lavoro deve attraverso le sue articolazioni, servizio prevenzione e protezione in questo caso, deve costruire un documento dove vengano elencati i rischi potenziali per quella lavorazione in quell'ambiente e anche le misure per evitarli e fare quindi degli investimenti e un piano per evitare, per ridurre il rischio. Questo documento deve essere messo a disposizione naturalmente dei lavoratori che devono conoscere la tipologia del rischio e accanto a questo c'è anche un'azione di tipo formativo messa in piedi dall'azienda, delle aziende, che lo fanno o singolarmente o associandosi proprio per far crescere nei lavoratori la consapevolezza che anche loro sono attori e attori principali della preservazione della salute nel luogo di lavoro. Io a volte vedo anche sulle strade delle scene drammatiche penso che lei che ha l'occhio ormai esperto vedere gente che dovrebbe essere anche proprio abbigliata in determinati modi per garantirsi, garantire a se stessi la sicurezza, beh è tutt'altro, tutt'altra cosa. Sì, poi ci sono... Quindi la responsabilità in questo caso di chi è? Resta del datore di lavoro? Resta del responsabile? La responsabilità in capo è al datore di lavoro in primis. Il datore di lavoro però deve mettere insieme tutti questi accorgimenti che dicevo prima e la responsabilità quindi è anche del lavoratore. Può arrivare anche a sanzionare il lavoratore per esempio se non usa i dispositivi di protezione individuale che l'azienda li deve mettere a disposizione. Per esempio l'uso delle protezioni acustiche oppure la protezione degli occhi o la mascherina eccetera o le scarpe antinfortunistiche, i guanti cioè sono cose che devono essere messe a disposizione dall'attore di lavoro ma è obbligo del lavoratore di farne uso perché altrimenti è vanificato. Certo, certo. Cambiamo completamente il discorso perché abbiamo sentito la varietà di ambiti di cui appunto si occupa il Dipartimento Prevenzione. Esiste un ambulatorio per i viaggiatori internazionali e lei diceva appunto poco fa fuori onda che è molto frequentato. Certo, certo. È molto frequentato. È un ambulatorio che è attivato presso i nostri uffici in via Cerreria e è frequentato da una serie di persone ci sono viaggiatori internazionali che girano per di porto c'è chi va in paesi africani piuttosto che dell'estremo oriente e chiaramente viene a informarsi sui rischi per la salute che sono in quei paesi. Noi abbiamo un aggiornamento continuo attraverso le pubblicazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà e ci fornisce. Sappiamo se per esempio c'è un tipo di rischio infettivo di un certo tipo di una certa malattia in quell'area, in quel momento e quindi se per esempio fare una profilassi farmacologica oppure fare delle vaccinazioni per proteggersi verso questo rischio. Questi sono i viaggiatori per di porto ma devo dire che nella nostra realtà sempre più frequentemente abbiamo persone che si recano per lavoro all'estero molti delle nostre aziende che hanno rapporti con paesi anche lontani devono restare per periodi a fare magari assistenza oppure creano delle opifici all'estero e quindi hanno bisogno di restare permanere. Allora vengono da noi e noi appunto diamo tutte le indicazioni utili. Oltre a questi poi ci sono anche gli immigrati che tornano al paese di origine. Per esempio tanti africani vengono da noi, ritornano in Africa, vanno per esempio nelle zone dove c'è la malaria e devono fare la profilassi per la malaria perché altrimenti quando vanno lì si imbeccano la malaria poi ci tornano di qua e voglio dire c'è un sistema di protezione sociale che prevede che vengano loro, i loro familiari vengano appunto consigliati oppure anche le somministriamo qualora necessario le vaccinazioni o diamo anche le profilassi e chemeprofilassi che servono insomma. E naturalmente noi diamo molti consigli perché oltre al fatto di avere somministrato un farmaco o di avere somministrato un vaccino c'è il discorso dei comportamenti anche comportamenti che devono essere assunti dalle persone quando vanno in certe zone evitare determinati comportamenti per esempio alimentari o sessuali o cose del genere che sono potenzialmente pericolosi e questo è molto importante e inoltre si danno indicazioni anche sulla eventuale comparsa di sintomi che possano orientare a una diagnosi non sottovalutate a un ritorno da un viaggio fatto in certe zone magari dove c'è la malaria o un rialzo febbrile può avere un significato completamente diverso da quello che è un rialzo febbrile in una persona che abita qui e che normalmente non è esposta a certi rischi perché può essere il segnale per esempio di una malaria o di una malattia comunque che è legata a delle punture di insetto piuttosto che da noi non ci sono ma che magari in paesi remoti diciamo chiamiamoli esistono si sono registrati soprattutto nell'ultimo periodo diversi casi di TBC sembra che sia ritornata sembrava sparita questa malattia è ritornata e vabbè si sono registrate anche delle vittime anche nel nostro territorio mi fa piacere che lei faccia questa domanda perché ci dà l'occasione anche per chiarire alcuni aspetti allora noi sappiamo che la TBC i più anziani sanno che è stata una piaga sociale c'erano una malattia che ha ammietuto molte vittime che erano veramente una piaga i più vecchi di noi ricordano anche l'esistenza di ospedali dedicati e di strutture dedicate proprio alla tubercolosi piano piano nel tempo col migliorare della situazione igienico-sanitaria non solo ma economica e della popolazione la malattia è praticamente rimasta confinata ad alcune persone più anziane che residuavano insomma in questi diciamo ultimi tempi è un po' vago dirlo ma insomma diciamo negli ultimi decenni c'è stata una ricomparsa della tubercolosi però ricomparsa non ha assunto per fortuna e non assume i caratteri della malattia sociale che aveva un tempo ma sicuramente ha colpito almeno due categorie importanti di popolazione una la categoria di popolazione italiana che per motivi di salute diversi ha avuto dei problemi di immunosoppressione per esempio HIV positivi persone che hanno un sistema immunocompetente cioè quello che produce gli anticorpi indebolito per una malattia in questi è più facile che la tubercolosi si manifesti e questa è una delle sotto diciamo popolazioni nelle quali e un'altra è la popolazione degli immigrati che non tanto perché siano immigrati non è una questione di razza è una questione di vivere in determinate condizioni sovraffollamento abiti poco adatti la casa fredda mangiano male cioè queste cose qui sono condizioni che favoriscono se poi immaginiamo che ci siano dei clandestini per esempio che manifestano dei sintomi che non vengono rilevati da nessuno c'è il rischio che in quel nucleo per esempio di conviventi si manifesti una epidemia cioè un insieme di casi di tubercolosi per questo noi agiamo con grande tempestività appena abbiamo il sentore di qualche caso interveniamo immediatamente facciamo dei controlli allargati a tutti i contatti che hanno avuto occasione di incontrare o vivere insieme soprattutto alla persona e quindi li seguiamo nel tempo questa è anche un'attività che facciamo noi come dipartimento di prevenzione li seguiamo per due anni per vedere per essere certi che non ci siano casi secondari e che quindi non si manifesti poi una espansione una trasmissione a terzi di tubercolosi che comunque rimane una malattia oggi abbiamo uno strumentario anche dal punto di vista farmacologico molto potente però rimane una grave malattia che deve essere guardata sempre con grande attenzione non c'è da temere si diceva si parla di epidemia usando termini così estremi non c'è da temere una diffusione della patologia secondo lei no noi dobbiamo considerare con grande serietà e con grande attenzione ogni singolo caso allora noi se noi consideriamo ogni singolo caso con attenzione e creiamo la barriera di protezione intorno non abbiamo questo rischio il rischio sarebbe qualora si sottovalutasse e non si agisse in maniera sistematica e con l'impiego di tutte le risorse che sono necessarie nel singolo caso in questo caso potrebbe manifestarsi sto parlando del periodo ipotetico del terzo tipo certo il caso estremo il caso estremo senta si parlava inizialmente del discorso proprio di prevenzione e sicurezza legato ai giovani e sicurezza stradale in questo caso un'attenzione particolare ai giovani va anche nella lotta lotta al fumo certo la lotta al fumo è una lotta dura sulla quale si sta muovendo non solo l'Italia si sta muovendo l'organizzazione mondiale della sanità a livello mondiale perché c'è la consapevolezza che è la prima causa di tumore che esiste nel mondo occidentale è un'abitudine sicuramente non provoca solo neoplasie ma anche tutta una serie di disturbi dell'apparato respiratorio e cardiorespiratorio ed è un fattore di rischio che è associato ad altri che si manifestano che ci sono sempre di più nella nostra popolazione cioè il sovrappeso l'inattività fisica ha un fattore è un potenziamento un potenziamento ed è quindi una grave una grave causa di malattia la caratterizzazione di questo e la difficoltà che c'è nei confronti dei giovani di vincere questa lotta è che nell'immediato non si coglie il danno perché nell'immediato uno trae la sensazione che provoca l'abitudine cioè in altre parole quello che emotivamente uno ricava dal fumo ma non avverte negatività perché il giovane tutto sommato ha un fisico sano in generale e non ha conseguenze dirette le conseguenze le avrà nel tempo nel tempo quindi però la prospettiva che i giovani hanno rispetto a questo è diversa da quella che può avere una persona adulta cioè dice cosa io sto bene sto così cosa sarà la sigaretta però purtroppo noi sappiamo che la latenza per esempio nella generazione delle neoplasie da da tabacco si aggira sui 20 anni quindi noi per 20 anni tra virgolette stiamo bene ma poi quando si fa una diagnosi di una neoplasia per esempio di tipo polmonare o vescicale o altre cose allora il problema si fa molto serio ma a quel punto il latte è già stato versato e quindi noi uno sforzo dobbiamo farlo sempre più più forte lo stiamo facendo anche cercando di avere attività innovative a partire dalle scuole a partire dalle scuole qui c'è un problema di modelli di comportamento modelli culturali anche qui il giovane che pensa di fumare per esempio per darsi un atteggiamento per sembrare più adulto e così via è una cosa che conosciamo e verso questo vanno cambiati c'è sempre stata adesso si cerca magari di proporre il modello dello sportivo di successo che ha una vita sana che non fuma che si alimenta in un certo modo si cerca di voltare in positivo non è tanto la paura perché la paura la vede così lontana il danno lo vede così remoto così improbabile per sé che è poco convincente mentre migliorare le tue performance avere un atteggiamento positivo ovvero per esempio nei paesi scandinavi sono partiti prima di noi su queste cose non so le magliette bacia un non fumatore apprezza la differenza non so allora uno dice per i ragazzi questa cosa qui per dire no come atteggiamento sì sì la differenza tra chi non fuma e chi non fuma è che chi non fuma è più come dire più figo si usa dire no di quello che se si entra in questo è anche vero che se vediamo nei paesi in via di sviluppo si fuma di più che nei paesi sviluppati no questo è un sintomo è un sintomo anche qui di evoluzione di cultura noi facciamo di tutto per appoggiare questa cosa qui perché noi non abbiamo la pretesa di modificare le scelte delle persone ma di aiutarle a scegliere per sé uno scelga per sé quello che ritiene meglio ma devi conoscere per scegliere questo è ovviamente dottor Apolloni c'è avuto un discorso proprio legandomi alla questione tumorale neoplasie legato proprio agli screening oncologici sì allora intanto bisogna dire che i tumori insieme alle malattie cardiovascolari rappresentano le due principali cause di morte nella regione Veneto e così anche nella nostra azienda sono responsabili circa il 70% delle morti per le malattie cardiovascolari le donne costituiscono la causa più importante delle mortalità delle donne sono le malattie cardiovascolari mentre per i maschi sono i tumori nelle donne comunque i tumori sono al secondo posto nella regione Veneto proprio per la prevenzione basata sulla letteratura scientifica ci sono dei programmi strutturati di screening oncologici che rappresentano delle funzioni multizonali dei dipartimenti di prevenzione cioè sono attivi su tutta la regione Veneto per quanto riguarda la nostra azienda i tre programmi che sono attivi come dico anche nelle altre usi del Veneto sono lo screening mammografico contro il tumore della mammella lo screening citologico che è contro il tumore della cervice uterina e lo screening del colon retto che è proprio il tumore colon rettale sono delle macchine organizzative che funzionano molto bene perché adesso vi darò alcuni dati ad esempio ogni due anni per lo screening mammografico vengono convocate un gran numero di donne 10.000 all'anno per fare questo screening lei parla dell'Ulstre dell'Ulstre 10.000 all'anno donne di età dai 50 ai 69 anni e grazie a questa attività di screening si riescono a riscontrare circa 7 casi di tumore per ogni 1000 persone screenate e l'obiettivo duplice di questo screening è quello di identificare precocemente questi casi per ridurre la mortalità da questo tumore dovuto a questo tumore e in seconda battuta anche per poter intervenire precocemente quindi con minori danni anche estetici e funzionali ovviamente per la persona lo screening del colon utero viene fatto su un'età diversa donne che partecipano sono dai 25 ai 64 anni di età e viene fatto ogni 3 anni attualmente anche se prossimamente sarà introdotto non più quello che viene utilizzato ora il pap test ma verrà introdotto la ricerca del virus HPV dell'herpes e questo consentirà di farlo ogni 5 anni questa valutazione vengono chiamate nella nostra azienda 14.000 donne all'anno e il tasso percentuale di tumori che vengono scoperti grazie a questo screening è del 3 per 1000 e si colgono anche ovviamente tumori in fase molto precoce per cui poi il loro trattamento comporta una guarigione completa per lo screening del colon retto vengono chiamati maschi e femmine circa 20.000 all'anno tra maschi e femmine ogni 2 anni l'età è sempre dai 50 ai 69 anni di età e qua il tasso di scoperta di tumori è dell'1,2 per 1000 1,2 casi per ogni 1000 persone scrinate con però anche un 7 per 1000 di tumori che diventerebbero cattivi in una fase successiva quindi anche in questo caso si riesce a intervenire molto precocemente e quindi trattare delle lesioni con completa guarigione credo che sia un successo per la regione Veneto mi preme a ricordare che anche nell'ultimo incontro di monitoraggio e di valutazione che hanno fatto in regione noi abbiamo superato come azienda grazie al lavoro del centro screening del dipartimento di prevenzione abbiamo superato tutti gli indicatori quindi siamo arrivati all'80% per lo screening manografico abbiamo superato con il 65-67% i livelli indicati della regione negli altri due ecco comunque soprattutto il tumore alla mammella rimane quello principale il tumore alla mammella è la prima causa di morte nelle donne sicuramente deve essere un intervento coordinato nel senso che il centro screening si occupa dell'organizzazione insieme alle altre strutture all'interno dell'azienda la radiologia ad esempio ma devono partecipare come supporto ad esempio anche i medici di famiglia e lo stanno già facendo perché solo mantenendo alta l'attenzione e la sensibilità nella popolazione si riesce ad evitare che qualcuna di queste persone sfugga e poi si presenti quando è troppo tardi con un grado di malattia piuttosto avanzato ecco dai 50 anni iniziano comunque questo screening e questa è l'età circa in cui si riscontra maggiormente ci sono anche casi più precoci ma in linea massima della letteratura si evince che l'intervento sulla popolazione per andare alla ricerca proprio va effettuato da questa età in poi prevenzione vaccini vaccini vaccinare i bambini vaccinare i bambini è ancora è ancora necessario è ancora utile è ancora indispensabile secondo voi sicuramente sì senza nessuna esitazione questa non è ovviamente un'opinione è quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che è l'autorità diciamo più sicura più prestigiosa diciamo nel mondo ci dice il rapporto tra gli eventi indesiderati collegati alle vaccinazioni e invece gli eventi che sono collegati alle malattie che compaiono se non si vaccina non ha paragoni veramente io credo che sia una cosa da dire senza nessun tipo di esitazione perché ci sono comunque persone che ritengono che lasciando alla natura eccetera le cose si risolvano ma non è così non è così perché la natura lo sappiamo bene che la la stirpe umana non si non si spenge per una epidemia neanche di vaiolo o di colera però sappiamo bene che ha un costo altissimo noi abbiamo della storia dell'umanità che è ben lì a spiegarci queste cose quindi sappiamo perfettamente calcolare che la presenza di effetti indesiderati collegati a malattie che abbiamo magari ritenuto anche poco importanti perché non mortali o raramente mortali come può essere al morbillo faccio un esempio per tutti magari tendiamo o tendevamo a sottovalutarlo oggi abbiamo la possibilità con dei vaccini sicuri di trattarlo e quindi gli eventi ripeto gli eventi negativi di una certa entità sono veramente molto ma molto rari quindi rassicuro in questo senso tutti i genitori vaccinati i vostri figli non solo ma poi anche negli adulti facciamo i richiami e col proposito noi siamo quasi giunti al termine però un'ultima battuta gliela voglio far far fare proprio sulla questione vaccini da quando non sono più obbligatori è sorta anche una polemica tra chi è pro e chi è contro sì io credo che registriamo questa lo vediamo anche nella nostra area avete registrato un calo ad esempio c'è una sicuramente c'è una una tendenza dopo la che è stato tolto l'obbligo vaccinale ma è stato tolto per una questione proprio di scelta di tipo non perché non serva a farli ma perché si vuole far pensare alla gente cioè si vuole lasciare la gente da consapevolezza che è importante farlo è una scelta che facciano i genitori di vaccinare ma questo non toglie nulla anzi aggiunge responsabilità ai genitori quindi c'è una certa quota di persone legate a una disinformazione che devo dire che è abbastanza purtroppo anche sistematica collegata a delle visioni che hanno molto dell'ideologia e poco della scienza noi invece ci ancoriamo agli aspetti scientifici vogliamo dimostrare vogliamo applicare in medicina credo che questo sia il dovere primo che ogni medico ha e anche le strutture andano insieme di dare solo quello che è sicuro solo quello che è provato scientificamente che è efficace quindi il consiglio anche proprio per malattie lei citava prima il morbillo per malattie che sembrano assolutamente sì non più di tanto rilevanti o possono pesare più di tanto assolutamente perché per esempio morbillo lo richiamiamo ma se io ho una complicanza per esempio un'encefalite da vaccino che capitano con una frequenza che può essere uno in mille casi dice 999 non ha avuto niente però quel poveretto che gli è capitato poi se lo ricordano per tutta la vita quindi vaccinato c'è una meta differenza diceva sì sì sicuramente come accennava prima il dottor Fontana ad esempio nella regione del dottor sul morbillo i casi di encefalite dopo vaccinazione sono un caso su un milione mentre nel caso di epidemia di morbillo purtroppo ci sono ad esempio dei casi segnalati con piccole epidemie in America attualmente e il caso di encefalite è uno su mille con il 15% di queste persone che hanno danni permanenti neurologici noi ci dimentichiamo che in passato c'è qualche ancora persona che porta i postumi per la fine degli anni 50 delle epidemie che c'erano di poliomelite in quei casi sta ritornando che la polio perché in alcuni paesi del Medio Oriente ci sono ancora dei casi di polio è dovuto al fatto che quelle popolazioni non sono state vaccinate vorrei accennare anche un altro argomento che è quello della sicurezza come diceva prima il dottor Fontana di vaccini i vaccini si sono sempre più evoluti adesso quindi anche gli adiuvanti le sostanze che magari in qualche caso venivano identificate come responsabili di qualche collegamento con qualche malattia mai dimostrato peraltro come l'autismo la sclerosi a placca sono stati decisamente migliorati e attualmente gli adiuvanti sono sostanze naturali per cui il rischio di questi vaccini è veramente ridotto nella regione Veneto sono state somministrate in 20 anni 29 milioni di dosi di vaccini 29 milioni di dosi e hanno avuto su tutte queste 29 milioni di dosi 440 reazioni di cui la maggior parte reazioni locali nessuna reazione mortale quindi direi che il vantaggio della vaccinazione è sicuramente evidente bene il tempo è volato siamo giunti al termine della nostra trasmissione io non posso fare altro che ringraziare i nostri ospiti il dottor Enzo Appolloni e il dottor Fabrizio Fontana grazie per essere stati così chiari e averci davvero fatto entrare in un mondo che sembra così complesso in realtà è mirato davvero a tutelare a 360 gradi la salute delle persone grazie per essere stati con noi e grazie a tutti i telespettatori per averci seguito arrivederci arrivederci